Siamo nel bel mezzo dell'ultimo trimestre 2023 e se ci pensiamo un attimo e se facciamo un passo indietro nel tempo, un anno fa di questi tempi riecheggiavano in rete tantissimi contenuti su quelli che erano i potenziali rischi di un'entrata in recessione da parte dell'economia statunitense. Ad oggi dati alla mano, mercati alla mano, possiamo dire che sono stati completamente spazzati via questi timori. Ma c'è un'ulteriore domanda che vorrei sottolineare in questo breve video, anche poi condividendo un po' di grafici e non solo, e cioè il 2023 potrebbe essere magari l'inizio di una nuova era, io ho già attitolato questo in qualche video passato, ma soprattutto l'inizio di quello che sui mercati azionari potrebbe diventare una decade persa. È un pericolo che non dobbiamo sottovalutare. E allora in questo breve video vorrei citare alcuni fattori, farvi vedere alcuni grafici, spero utili per tutti quanti voi, per ancora una volta darvi degli spunti utili e soprattutto buttarli ancora una volta un tassello su un'educazione finanziaria sempre più necessaria in Italia. Fattori chiave nel breve medio periodo. Beh, ormai lo conosciamo tutti, il primo da citare è l'inflazione, il suo andamento, la sua ascesa, decrescita e così via. Fattore importantissimo da seguire ogni volta, ogni mese, non soltanto negli Stati Uniti ma anche in Europa, Regno Unito e non solo, perché è appunto quello che possiamo definire il market driver principale. A questo 1.b, mettiamola così, dobbiamo assolutamente andare a vedere che cos'è che sta dietro l'inflazione, che cosa la fa crescere, decrescere e così via. Non possiamo non citare il mercato del lavoro. In particolare, scusate, negli Stati Uniti, in quanto il mercato del lavoro in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi, ha ancora una volta dimostrato quelli che sono stati numeri davvero sorprendenti, una forza che per molti è davvero quasi una mission impossible, ma che comunque sia, come dicevo prima, dati alla mano e da registrare, da prenderne atto e andare avanti. Un secondo fattore legato al punto numero 1 è inevitabilmente, sono meglio, inevitabilmente le politiche monetarie delle principali banche centrali nel mondo. Se facciamo ancora una volta riferimento agli Stati Uniti, non possiamo, ma anche qualche ora fa c'è stato un auspicio molto importante all'Economic Club di New York da parte di Jay Powell, ha sottolineato ancora una volta come tutti quelli che sono i dati da monitorare inevitabilmente riportano poi decisioni sui tassi di interesse, cresciuti in maniera incredibile in questi ultimi mesi e che pesano inevitabilmente sull'economia. Per quanto riguarda i prestiti, basta guardare semplicemente questa tabella riassuntiva dal sito del Wall Street Journal che vi mette lì quelli che sono i rendimenti su alcuni bond in particolare, quelli che sono i tassi sui mutui e quindi il costo del denaro per quanto riguarda il semplice cittadino, ma anche per le imprese, in quanto adesso non siamo più nell'epoca precedente in cui il costo del denaro è zero. Adesso prendere i prestiti costa e tutto ciò si ripercuote anche lato aziende, qua chiudiamo questo secondo punto, su quelli che potenzialmente possono essere chiaramente i margini. Quindi leviamo il tutto punto 1, punto 2 e vedremo che cosa succederà. Tra l'altro mentre sto registrando questo video siamo ancora una volta nel bel mezzo di una stazione di trimestrali molto molto importante. Ultimo ma non ultimo è un ritorno al passato e vorrei ancora una volta citarvi quello che è il debito, debito statunitense in particolare perché riecheggia ancora una volta quelli che sono i numeri incredibili di questa economia, debito record, vi faccio vedere questo grafico e soprattutto a sottolineare quella che è la crescita quasi esponenziale in quest'ultimo periodo anche dopo quello che è stato l'ultimo accordo sul tetto al debito. Legato a questo in un'epoca come questa di tassi di interesse alti inevitabilmente ci sono anche gli interessi sul debito che sono cresciuti a dismisura. Ne abbiamo parlato in lungo e largo anche in precedenti contenuti sempre qua all'interno del nostro canale youtube e proprio per questo vi appello o meglio mi appello a voi per quanto riguarda l'iscrizione al nostro canale youtube tantissimi contenuti gratuiti come tantissimi contenuti gratuiti anche all'interno del nostro canale telegram ufficiale. Trovate i link in descrizione per poter semplicemente con un click entrare a far parte della nostra famiglia. Ecco in questa prima parentesi del video ho cercato di elencare tre fattori o meglio tre punti chiave che potrebbero essere davvero da osservare costantemente nel prossimo futuro perché da questi forse potremo capire come muoverci meglio sui mercati finanziari. Un doveroso fattore da sottolineare e noi lo facciamo ogni volta praticamente ogni giorno all'interno e con i ragazzi del percorso formativo servizio prima della nostra community anche qua per chi vuole può cliccare in descrizione c'è un link specifico che vi riporta la nostra pagina dedicata un po' di informazioni sono scritte lì però se volete siamo qua a vostra disposizione basta inviarci una mail a info che ho sulla visionforex.info. Come vi dicevo prima un fattore ed unico forse come dice il prof Ciavarella che possiamo controllare è il rischio. Quando investiamo su qualsiasi asset class l'unico fattore che possiamo tenere sotto controllo è il rischio. E allora vi faccio vedere due grafici uno tra l'altro i ragazzi del percorso lo conoscono già perché loro hanno la presidenza è stato condiviso qualche giorno fa all'interno del canale stesso con una diretta specifica. Andiamo su questo primo grafico che mette in contrapposizione l'andamento e il rendimento dell'S&P 500 attuale grafico di Bloomberg con un confronto molto semplice un bond a sei mesi sempre in territorio statunitense chiaramente. Come potete vedere linea nera il rendimento del bond a sei mesi ecco che quest'ultimo rende di più rispetto a quello che è un benchmark di riferimento del mercato azionario come l'S&P 500. Quindi la domanda tornando a noi è ma vale la pena quindi di esporsi su quello che è un asset, vedi l'azionario che ha un rischio per definizione maggiore rispetto all'obbligazionario? Un investitore queste domande se le deve assolutamente fare. Ma vi faccio vedere anche un'altra cosa. Equity risk premium quindi premio per il rischio. Da Bloomberg ancora una volta c'è nel soccorso con questa slide è evaporato. viene titolata così questa questa slide di qualche giorno fa è evaporato il premio al rischio. Quindi ancora una volta si reitera la domanda precedente perché dovrei ad oggi correre il rischio di espormi sul lato azionario sul settore o meglio azionario quando dall'altra parte ci sono asset che per definizione lo so non sono privi di rischio perché adesso vi faccio vedere anche uno degli asset o meglio un qualcosa che tutti quanti voi ne avete iniziato a seguire. Ecco che perché appunto ci dobbiamo esporre ad un rischio maggiore quando i rendimenti sul lato obbligazionario sono molto molto importanti che potrebbero cogliere ovviamente l'attenzione degli investitori anche di noi piccoli investitori retail per spezzare una lancia diciamo a sfavore anche del lato obbligazionario vi faccio vedere semplicemente l'etf di riferimento principale per il lungo termine sui bond statunitense cioè il TLT che sta vivendo ormai da alcuni mesi e anni un periodo davvero difficile una pressione ribassista importante siamo tornati su dei livelli che non si vedono da tantissimi anni però sotto questo aspetto chi è liquido oggi ovviamente ha l'opportunità da cogliere su tutto quello che vi ho detto in precedenza con l'unica eccezione di controllare il rischio. Per controllare il rischio chiaramente c'è o una strategia davvero ferrea è una disciplina come dice il prof militare per quanto riguarda quelli che sono i calcoli da fare nel quanto esporsi come esporsi su quali prodotti esporsi e così via oppure cerchiamo di andare alla ricerca di quelli che sono prodotti di investimento che possono essere e che possono ovviamente darci una possibilità in più di controllo del rischio. Ecco perché sposiamo ancora una volta la causa di Fontabel che è lo sponsor di questo video grazie a quelli che sono i tantissimi certificati presenti sul sito che vi sto mostrando in questo momento e che possono andare a cogliere tantissime asset class e soprattutto grazie a questi prodotti avere un'esposizione graduale iper controllata ovviamente l'iper controllo ve lo dovete dare voi ecco non è che ve lo do io o Fontabel o chi che sia l'esposizione quindi la quantità di pezzi acquistati su questi prodotti è ovviamente a discrezione vostra ma ci sono tantissime sfumature e tantissime variabili da controllare quella del rischio è importantissima quella di andare alla ricerca di prodotti che possono far davvero valere questo tipo di concetto sono ancora una volta la nostra portata come quelle appunto dello sponsor di questo video quindi spero ancora una volta possiate cogliere l'appello a visitare il sito di Fontabel trovate il link in descrizione e valutare anche quelli che sono ulteriori prodotti di investimento e perché no anche di speculazione ma su questo magari ci torneremo in un prossimo video ho parlato all'inizio di decade persa vi faccio vedere però un grafico almeno alcuni grafici relativi al decade persa che cosa significa e così via il primo che vi faccio vedere non è aggiornatissimo ma va bene lo stesso per l'esempio che voglio portarvi ultimi praticamente 60 anni di storia quante sono state le decade perse beh in questo lasso temporale per l'SMP500 ne troviamo due quella che va da metà anni 60 a fine anni 70 sono circa 13 anni e come potete notare se fossi stato un investitore avessi buttato lì una mia parte di patrimonio su magari aree alte di prezzo avrei sofferto per davvero tanto tempo idem per quanto riguarda il post 2000 non abbiamo visto per circa 12 anni i massimi della dot com bubble poi battuti successivamente praticamente nell'arco del 2012 2013 questo fa la differenza ritorniamo al discorso precedente del rischio dobbiamo capire che l'azionario è un asset sicuramente importante che dà dei rendimenti importanti ma entrare e acquistare asset azionari lo dobbiamo fare in ottica warren buffett a sconto su correzioni importanti non posso dilungarmi in questo video ma ci sono davvero tantissimi contenuti che abbiamo cercato di rilasciare proprio in queste ultime giornate con i ragazzi del percorso formativo questo è un fattore importante decade persa significa questo entrare in area massimi soffrire per tanto tempo è vero l'azionario è quello che rende di più se ma se soltanto se entriamo su correzioni importanti significative allora lì ne vale assolutamente la pena entrare sull'azionario altrimenti si soffre anche su questa asset class parallelo con i giorni nostri il timore mio personale ma che appunto è alla diciamo alla base di questo video abbiamo visto spiego immediatamente scusate abbiamo visto i massimi anni tra fine 2021 inizio 2022 per l'S&P 500 e tornare a 4800 punti eccetera 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 lo storno importante che ha caratterizzato lo scorso anno la ripresa soprattutto con l'accelerazione che si è praticamente vissuta durante proprio quello che è stata l'hype dell'intelligenza artificiale maggio giugno luglio con i top di luglio 2023 a 4600 punti circa un 4 4 mezzo per cento dei massimi storici precedenti e da lì l'avvio di un'ulteriore correzione come quella che stiamo vivendo appunto nelle ultime settimane ma se questa è l'alba di una decada persa questo di luglio 2023 potrebbe essere il massimo significativo il massimo che potrebbe sancire quell'ulteriore spazio di discesa per quanto riguarda l'S&P 500 che addirittura potrebbe poi chissà riportare e vedremo diciamo durante il corso delle prossime settimane quelli che saranno ovviamente gli eventi che caratterizzeranno lo scenario sui mercati finanziari magari vedere un'oscillazione anche nei prossimi trimestri tra magari il bottom dello scorso anno e appunto il massimo precedente a 4008 quindi riferimenti 4008 3500 3600 punti ecco ma se quindi dovessimo continuare a fare l'errore di scegliere l'acquisto da 4005 in su magari ci esponiamo scegliete il verbo che vi pare chiedo scusa ad un rischio magari troppo eccessivo di soffrire come vi spiegavo prima come vi ho fatto vedere nella slide precedente ad un rischio appunto di soffrire per tanto forse troppo tempo e quanto si potrebbe portare in avanti questa decada persa beh se siamo all'inizio alcuni anni questa la preoccupazione principale ecco giusto per spiegare il tutto contesto contestualizzato ad oggi e chiudo davvero sul finale con un ultimo per tornare davvero a chiusura del cerchio recessione l'ho citata all'inizio vi faccio vedere questa che è l'inversione della curva dal sito della federal reserve di sean lewis dieci due anni siamo entrati in estate 2022 in inversione della curva e tutti si sono buttati lì lo dicevo all'inizio no beh pericolo recessione così via non è l'entrata in inversione della curva che richiama l'attenzione su quelli che potrebbero essere i pericoli di entrata e recessione dell'economia statunitense è il ritorno sopra lo zero di questa curva ce lo dice la storia potete notarlo dal grafico in maniera molto molto netta che richiama l'attenzione su quello che potrebbe essere la prossimità dell'entrata e recessione stiamo vedendo un riassorbimento importante in queste ultime settimane attenzione al ritorno sopra lo zero di questa curva e da lì se ci dovesse essere le conseguenze del caso provate a riflettere su cosa fare come farlo e così via azionario sì ma dobbiamo capire quando idem per quanto riguarda l'obbligazionario quindi il timing capire il contesto macroeconomico e finanziare da lì di conseguenza cercare di applicare un timing il più preciso possibile non si comprano i minimi e non si vende sui massimi per chi specula non vende i massi e non compra i minimi se va short assolutamente no ma cercare di avvicinarsi all'area di bottom cercare di capire quando eventualmente è il momento di liquidare queste sono variabili che fanno la differenza chiedo scusa quindi spero possiate ancora una volta apprezzare questo contenuto spero di ritrovare nei commenti ancora una volta spunti utili di riflessione perché ho buttato lì una condivisione a cuore aperto in questo video se volete vi potete iscrivere se vi è piaciuto potete mettere un like se volete potete anche cliccare sul link in descrizione per visitare il sito di font e insomma fate cosa volete io sono qua a disposizione per rispondere ai vostri video spero che questo video vi sia piaciuto grazie di cuore a tutti per la pazienza vi auguro una buona giornata come sempre vi aspetto al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti